Buongiorno a tutti cari amici di EvoSmart.it, bentornati in nostra compagnia quest'oggi voglio riportare una riprova, una riprova del Gear S3 Frontier mi sono chiesto il perché magari nessuno ne parla più visto che secondo me ad oggi è uno dei migliori smartwatch in commercio se uno non vuole avere un Apple Watch, se uno non vuole avere un Android Wear, ma vuole un qualcosa di alternativo visto che è a bordo a Tizen sapete bene, ve l'ho sempre detto, che io amo tantissimo Tizen, piattaforma proprietaria di Samsung una piattaforma che a me piace per come è stata costruita, pensata e soprattutto per come funziona in ambito quotidiano ragazzi ringrazio ovviamente Tech Ticino che mi ha inviato questo sample sarà poi disponibile all'acquisto, quindi un sample usato in fase di recensione, quindi niente di che vi lascio i suoi contatti qua sotto in descrizione, così potete consultare il suo canale Telegram e vedere tutte le sue offerte ma detto questo, lanciamo subito la nostra sigla ecco qui ragazzi quindi il Gear S3 Frontier un dispositivo secondo me fantastico per come è costruito partiamo ecco subito dalla costruzione, veramente veramente ottima anche con il passare del tempo secondo me è invecchiato benissimo ormai è qualche annetto che è uscito questo S3 Frontier ma devo dire è uno smartwatch secondo me bellissimo bellissimo per come è costruito, bellissimo per le sue funzioni ghiera rotante vedete per vedere tutte le varie impostazioni abbiamo la misurazione del battito cardiaco tutte le funzionalità di Samsung Health sono all'interno di questo dispositivo e poi ecco la ghiera è veramente una ghiera fantastica secondo me morbida al tatto e soprattutto secondo me bella precisa anche quando andiamo a muoverci all'interno delle varie app si muove molto bene vedete poi abbiamo l'integrazione con il meteo abbiamo l'integrazione come vi dicevo prima con S Health, misurazione del sonno, questi sono i passi fatti oggi, misurazione del battito cardiaco, questo sonno è un prodotto completo al 100% vi faccio vedere un po' come funziona tornando indietro all'interno del mio menu abbiamo la possibilità ovviamente di cambiare tutte le varie watch face sono disponibili anche all'interno dello store di Samsung quindi potete scaricarne a piacimento tornando indietro poi vi faccio vedere anche l'autonomia 67% questo smartwatch è acceso da domenica mattina quindi ci si fa tranquillamente due giorni pieni senza nemmeno spegnerlo durante la notte quindi due giorni veramente pieni 48 ore complete oppure tre giorni se ovviamente andate a staccarlo la notte per quanto riguarda il display una delle cose fondamentali ve ne sono reso conto proprio ieri il display sotto la luce della retta del sole di questo Gear S3 Frontier si vede veramente veramente bene nessun tipo di problema luminosità automatica che funziona benissimo quindi ecco un altro plus di questo orologio ovviamente poi vedete questa è l'applicazione del Gear S3 quindi l'applicazione di tutti i wearable di Samsung abbiamo una home dove possiamo interagire con la batteria vedere i gigabyte liberi della memoria interna di questo dispositivo e anche la memoria RAM disponibile compatibile con Samsung Pay non ho abbinato la mia carta hype compatibile con Samsung Pay però vi faccio vedere vi basta tenere tappato il tasto in alto a destra per ovviamente interagire con Samsung Pay la possibilità di pagare contactless con il vostro smartwatch attenzione non tutte le carte sono abilitate quindi magari informatevi prima vedete poi abbiamo delle altre applicazioni ho tre aggiornamenti disponibili Samsung Health come vi dicevo prima un aggregatore no? l'applicazione dedicata allo sport quindi la traccia del sonno dei passi fatti delle attività sportive Smart Things ovviamente l'applicazione dedicata alla casa vedete di Samsung tutto l'ecosistema poi abbiamo tutti i vari tab dedicati alle impostazioni delle notifiche dei widget delle applicazioni schermo possiamo anche settare i suoni le varie vibrazioni ci sono più modi di far vibrare il nostro smartwatch proprio per sentire o meno le nostre notifiche vedete i quadranti che vi dicevo prima poi all'interno dello store vedi altro ci colleghiamo direttamente allo store di Samsung e noi possiamo scaricare di altri cioè veramente per tutti i gusti e poi possiamo anche andare a scoprire le varie novità del nostro Gear S3 Frontier vi dicevo secondo me un prodotto veramente veramente interessante ora me lo levo dal polso prodotto che ho voluto riprovare proprio perché è stato messo un po' da parte sono usciti nuovi eccetera eccetera ma secondo me questo è ancora un prodotto ad oggi altamente consigliato passo da 22 mm si possono cambiare i cinturini ce ne è veramente di tutti i tipi anche su Amazon ed è secondo me uno dei prodotti più interessanti del momento per chi vuole un prodotto comunque competitivo ma andando a risparmiare qualcosina visto che come vi dicevo prima è uscito oramai da tanto sul mercato se anche voi siete d'accordo ragazzi con la mia disamina quindi questo Gear S3 Frontier secondo me va veramente veramente bene ed è straconsigliato a tutti vi attendiamo come sempre nel box dei commenti per sapere la vostra opinione le vostre impressioni tutto lo staff di egosmart.it anche oggi vi ringrazia vi saluta e ci sentiamo nei prossimi video